Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione su Telefriuli. Cesare Battisti è atterrato alle 11.50 di questa mattina all'aeroporto romano di Ciampino direttamente dalla Bolivia dove è stato arrestato sabato sera alle 22 ora italiana. Ad attendere l'atterraggio del Falcon 900 del governo italiano decollato da Santa Cruz c'erano il ministro degli interni Matteo Salvini che ha trasmesso una lunga diretta su Facebook per immortalare l'evento e il ministro della giustizia Alfonso Bonafede. A testa alta, senza mai abbassare lo sguardo e sorridente, Battisti è sceso dall'aereo senza manette ai polsi circondato dai poliziotti. Ora per l'ex terrorista si aprono le porte del carcere di Rebibbia con sei mesi di isolamento diurno nel circuito di alta sicurezza riservato ai terroristi. Qual è l'atto di giustizia che l'hanno preso? Mi pare che sia già successo altre volte. In questo momento certo c'è una novità importante ma per quanto ci riguarda non è accaduto ancora nulla. Dunque dopo 40 anni di questa storia è difficile sapere cosa ci si può davvero aspettare. Noi dobbiamo capire, dobbiamo aspettare ancora una volta. Sono le parole più significative dell'intervista che Giuseppe Santoro, figlio di Antonio Santoro, maresciallo e comandante degli agenti di custodia del carcere di Udino, ucciso nel capoluogo filano da Cesare Battisti, ha rilasciato alla cattura del latitante che ha rilasciato. Giuseppe Santoro oggi ha 60 anni ed è il primo dei tre figli del maresciallo ucciso la mattina del 6 giugno 1978 a 52 anni. A sparargli in un'azione definita guato di stampo terroristico a nome del gruppo proletari armati per il comunismo, in via Spalato fu Cesare Battisti che giunse alle spalle di Santoro e tirò tre volte il grilletto. Santoro era accusato dai PAC di maltrattamenti e danni dei detenuti, abuso d'ufficio e abuso di potere. Ne rivendicarono l'omicidio con un volantino di rivendicazione titolato contro i lager di Stato. Il figlio riconosce che l'arresto è un passo avanti, un evento nuovo, ma preferisce non sbilanciarsi. Sono passati già più di 40 anni e ognuno si è fatto la sua vita, ma è evidente che certe situazioni rimangono ancora in piedi, come questa che io e la mia famiglia non consideriamo ancora chiusa. L'ex segretario del PD, Walter Veltroni, venerdì 25 gennaio, sarà ospite del circolo PD di Buia, intitolato a Guido Rossa. 40 anni dall'assassinio di Rossa, sindacalista dell'Ital Sider di Genova, ucciso dalle Brigate Rosse per aver denunciato un collega che aveva introdotto nella fabbrica ai volantini del BR, Veltroni renderà omaggio a un simbolo di libertà, democrazie e resistenza civile. Alcune notizie di cronaca, una serata spensierata tra connazionali in un circolo di Udine si trasforma in un incubo, all'improvviso si avvicina un ragazzo barcollante che lo minaccia per aver lanciato, un'occhiata di troppo, a una ragazza, gli dice che la sua donna, l'incolpato, evita di litigare per questo, si allontana e si chiude in bagno per un po'. All'uscita, quando pensa che tutto si sia calmato, si sente arrivare all'improvviso in pieno volto un pugno che gli spacca il naso. Viene soccorso l'aggressore, un camerunese di 42 anni denunciato per lesioni. Ieri i carabinieri di Feletto Umberto, comandati dal maresciallo maggiore Campagnolo, lo hanno rintracciato e arrestato. Deve scontare ancora tre mesi per quell'aggressione avvenuta nel 2012 a Udine. Minaccia di far saltare in area un'auto, se il procedimento a suo carico non procede, come lui si augura, è successo questa mattina intorno alle 6.45, alla sera del Tribunale di Udine, quando un uomo ha avvicinato un assistente giudiziaria intenta a raggiungere l'ingresso del Palazzo di Giustizia. Una volta svincolatasi, la dipendente è riuscita a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine, che in pochi minuti hanno raggiunto l'argo spedale vecchio, fermando il soggetto e transennando l'area intorno alla vettura. Dalla portiera dell'auto infatti fuoriuscivano degli strani e inquietanti cavi che facevano presagire il peggio. Per circa 20 minuti gli agenti della Polizia di Stato e delle volanti hanno valutato se fare intervenire agli artificieri per una bonifica poi risultata non necessaria. L'auto di proprietà dell'uomo ad una successiva ispezione non presentava al suo interno alcun ordigno. L'uomo, 50 anni italiano, residente in Austria, è stato fermato e portato in questura. Da un paese è stato interrogato, è stato rilasciato in tarda mattinata e denunciato per procurato all'arma. A suo carico sarà proposto il foglio di via dal comune di Udine. Spintona e strattona l'anziana madre che ha chiamato i carabinieri perché lui è violento. La pensionata di 75 anni di Tolmezzo a causa delle spinte del figlio perde l'equilibrio e cade a terra ai militari della stazione di Paluzza comandati dal luogotenente Claudio Dosso intervenuti sul posto cercano di aiutare la donna a rialzarsi. In quell'istante il figlio gli si avventa contro uno di loro con un bastone. I carabinieri lo disarmano e per il figlio Manesco, 54 anni, scatta la denuncia per violenza a pubblico ufficiale. L'anziana è stata trasportata in ospedale con un trauma alla spalla. E cede nelle bevute e ubriaco comincia a dare a fastidio gli altri clienti di un bar a Paluzza. Qualcuno chiama i carabinieri e quando si ritrova davanti l'uomo molesto spinge ai militari per cercare di allontanarsi. I carabinieri della stazione di Comelianz e di Villa Santina lo bloccano e lo portano in caserma. Il 41enne viene denunciato per ubriacchezza molesta, ha rifiuto di declinare le proprie generalità e per esistenza a pubblico ufficiale. Ed ora ci spostiamo a Cividale, che ieri ha celebrato l'epopea dello storico battaglione dopo la messa in Duomo, l'imponente parata, giunta alla ventitresima edizione che ha visto migliaia di alpini partecipare. 1.500 gli uomini in parata, altre 1.000 almeno le presenze disseminate lungo i bordi delle vie del centro di Cividale per seguire con l'affetto e la partecipazione di sé sempre il lunghissimo corteo del battaglione Cividale, un raduno giunto alla ventitresima edizione. Ancora una volta il Forza Cividate tutti i nostri amici alpini portano quelli che sono stati i valori che accompagnano da sempre il mondo degli alpini e anche un pezzo di storia della nostra città. Una città che era una città d'armi e che oggi riguarda nuovi obiettivi, quelli turistici, come un momento che porta appunto un afflusso di persone da tutta Italia. Gli alpini sono riusciti ancora una volta a far sì che questa invasione pacifica riportasse in città molti che qui hanno fatto la naia, molti che qui sono passati, ma anche molte persone, molte famiglie che vogliono tornare a guardare Cividale con un occhio diverso e a scoprire i suoi monumenti e le sue bellezze artistiche. Ed ora andiamo al Teatro Dorsera di Primariacco con lo spettacolo che ha visto i protagonisti Piero Sidoti e Massimo Cotto. Una rivisitazione fra musiche e parole delle pagine più belle delle canzoni d'autore storica francese e della scuola genovese quale tributo alla figura del compianto cantautore di Cuneo Gian Maria Testa. Parliamo di Coltempo Sai a Vegletamp, recita al teatrale e andato in scena al Teatro Orsaria di Primariacco per la stagione del circuito ERP, ente regionale teatrale, con protagonisti il cantautore e chitarrista friulano Piero Sidoti ed il giornalista, disc jockey e scrittore di Asti Massimo Cotto. Nato da un'amicizia sui palchi, con la comune passione per la musica d'autore e non solo, questo spettacolo avrebbe dovuto avere per protagonisti lo stesso Gian Maria Testa, il pianista jazz Roberto Cipelli e Massimo Cotto. Ma con la scomparsa del cantautore, quando il progetto era ancora in fase molto avanzata, Massimo Cotto e la moglie di Testa Paola Farinetti hanno deciso di dargli una nuova forma, quella del reading, con protagonista Piero Sidoti, cantautore e chitarrista friulano, amico di Gian Maria Testa, autore di alcuni album di culto e targa tenco chiamato a dare voce al nucleo fondante dello spettacolo, il rapporto fra gli chansonnii francesi ed i cantautori italiani fra Parigi e Genova. Con immagini in bianco e nero sulla Rive Gauche esistenzialista di Saint Germain Depré, i due protagonisti rievocano a modo loro gli chansonnii di Spicco come Juliette Greco, Edith Piaf, Brassen, Brell, Gainsbourg, Boris Vian e per quanto riguarda l'Italia le canzoni di De André, Lauzi, Bindi, Tenco, Conte e quanti hanno cantato Genova per noi. Siamo allo sport con la vittoria dell'Udinese ieri in amichevole contro il Padova 1 a 0. Al termine della gara il tecnico Bianconero si è detto soddisfatto. Al di là della vittoria insomma dove poteva essere secondo me anche molto più cospicua direi che la cosa che ci interessava era verificare tutta la settimana che abbiamo fatto. I ragazzi sono presentati vogliosi, determinati, hanno completato tutti la settimana e direi che sostanzialmente io oggi ho visto davvero grandi passi in avanti su alcuni movimenti che stiamo provando per renderci sempre più imprevedibili e poi avevamo l'esigenza di valutare alcuni giocatori per sapere se possono stare e continuare all'avventura oppure hanno bisogno poi di poter andare a giocare. Direi che al di là del fatto che ci mancasse la possibilità di schierare un terzo difensore Mandragora si è disimpegnato molto bene dando prova del fatto che è un giocatore affidabile e su lui si possa contare sempre peccato non averlo sicuramente nella partita contro il Parma. Poi Niguez, Ingeson, Micin, lo stesso Koulibaly che secondo me ha fatto bene si sta applicando davvero con grande impegno e soprattutto Kaka che era appena arrivato e abbiamo l'esigenza di renderlo subito utile per la squadra sapendo che non ha una condizione quindi non potrà durare un'intera partita però ha fatto vedere che ha intelligenza di gioco ha fisicità ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelle che avevamo. Il basket è un buon risultato anche del GSA Udine che ieri ha fermato la bestia nera Imola 83-71 al Carnera Non esagero dicendo che questa è una delle più belle vittorie che io mi posso ricordare in 22 anni di carriera a livello emotivo a livello di sensazioni di squadra questo è un grande segnale di squadra di voglia di vincere e di andare oltre ogni ostacolo con l'infortunio di Simpson con l'infortunio di Penna con l'infortunio di Mashaun Powell che ha giocato stoicamente ma tanti altri avrebbero alzato bandiera bianca con l'infortunio di Cortese veramente devo dire bravissimi ai ragazzi che hanno anche ribaltato la differenza Canestri che hanno saputo eseguire quelle poche cose che ci eravamo prefissati con questi quintetti abbastanza anomali per noi assumendosi tutte le responsabilità offensive e soprattutto difensive dopo un primo tempo che ci aveva visto un po' in difficoltà e devo dire veramente una grandissima vittoria che vorrei dare ai ragazzi come merito totale e come volontà siamo in chiusura l'informazione ritornerà puntuale questa sera alle 19 ma rimanete con noi adesso c'è l'appuntamento con l'approfondimento del giorno a voi la linea Alessandra Salvatore in studio dedica la gran parte della trasmissione all'atterraggio di Cesare Battisti all'aeroporto romano di Ciampino con collegamenti in diretta dal territorio grazie per l'attenzione e buona giornata grazie per la visione